Adesso parliamo del progetto internazionale E-Twinning The Holocaust and the Lighthouse creato dalla professoressa Daniela Tilloca che permetterà agli allievi della scuola media dell'istituto comprensivo numero 3 dei plessi via Biasi e Santa Maria da Palma di incontrare ad Alghero i loro compagni della scuola First Junior High School of Byron Ginnasio Carea di Atene che visiteranno il prossimo 23 aprile. E-Twinning è la più grande community europea di insegnanti attivi nei gemellaggi elettronici tra scuole ma in questo caso il progetto che ad Alghero stanno realizzando le professoresse Daniela Tilloca e Giussi Pascalis permette anche l'incontro presenziale con i ragazzi greci che sotto la guida della loro docente Vasilichi Papayonnau saranno in viaggio di istruzione nella nostra città la prossima settimana. L'azione è il tramite per aprirsi una nuova didattica basata sullo scambio e la collaborazione in un contesto multiculturale con numerose opportunità di formazione e un sistema di premi e riconoscimenti a livello internazionale. Grazie.